Allora, oggi gli inesperti di Radio Peter Pan, insieme all'esperto di Cercato Motors Gianluca, presenteranno ai propri follower, ai propri ascoltatori, alla rete in generale, la BMW Serie 1, la 116. Dove caro Edo, tu saprai benissimo che 116, l'1, il primo 1 sta per... Chiaramente è la macchina, no? La Serie 1, mentre il 16 sta per... Le valvole! No, no, niente. La cilindrata! La cilindrata? Perché? Cilindri, 16 cilindri! No, vabbè, vabbè. Per fortuna c'è l'esperto, ragazzi. Vai Gianluca! Oggi presentiamo la nuova Serie 1 M Sport. La versione presenta un frontale molto accattivante, con la griglia nera, cerchi da 18 diamantati bicolore, una vernice metallizzata in versione nera e un estrattore posteriore molto accattivante. L'auto presenta dei meravigliosi fari LED sul frontale e anche sul posteriore. Edo, che stai facendo? Marco, sto prendendo le misure qua con la griglia per l'estate, facciamo due arrosticini, due robe, va benissimo su questa, eh? Marco, abbiamo un problema. Cioè? Non sono 18 qua i cerchi. No, i cerchi da 18. Da 18 arrosticini? No, vabbè. Bene, adesso Edo andremo anche a scoprire il motore di questa BMW 116. Apri il cofano. Dai che lo apriamo, vai. Guarda, eccolo qua. Vabbè. No Marco, qua c'è solo una valigia, non c'è il motore. Il motore è un 1.5 tre cilindri twin power turbo da 116 cavalli di potenza prodotto da casa BMW. Eh, molto bello, ma la bombola del metano dove l'avete messa? Comunque c'è un problema, eh? Che è successo? Hanno messo solo la M qua. Manca la B e la W? Eh certo, è BMW la macchina, scusi. Faremo presente a ceccato. Dijalo, dijalo. La versione M ha numerosi dettagli, come il battitacco dedicato a M Sport, sedili in stoffa pelle con cucitura contrasto blu, il volante sportivo M, navigazione professional e la stupenda pedaliera dedicata a M Sport. Ok ragazzi, siamo pronti finalmente, dai che la proviamo Gianluca, dai che partiamo, dai che partiamo, via. Ciao BMW, metti in radio Peter Pan. E alza il volume! E fai sentire quanto siamo tamari con la serie 1. Vai, finestrino aperto, vai! Braccio fuori dal finestrino, vai! Ciao BMW, la navigazione per l'autoscuola, porta Edo in autoscuola, grazie. Allora Marco, la mia guida sportiva, come la vedi? Ecco qua. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Beh, la tengo un altro po', dai. Grazie.